... Melissa Mongiardo e Eugenio Levi, Rama Dasi Mariani, vincitori della seconda edizione del Premio di Bagno, con un lavoro di ricerca che starete per fare sulla migrazione e sull'ostilità di questa Europa nei confronti dei flussi migratori. Avete già incominciato a capire perché oppure sapete da dove partire per spiegare perché? Beh, allora alcune idee sì ce le abbiamo, che sono quelle alla base del progetto di ricerca che abbiamo presentato per il Premio di Bagno e sono che da una parte ci potrebbe essere un'insufficienza nelle politiche di integrazione o alcuni fallimenti nelle politiche di integrazione e che questa potrebbe essere una delle ragioni alla base dell'ostilità nei confronti del fenomeno migratorio, dall'altra che possono esserci alcuni elementi irrazionali, quindi legati ai pregiudizi, alle discriminazioni, ad una serie di paure e che i media e le narrazioni politiche possono avere un ruolo importante nella diffusione di questo tipo di pregiudizi e noi vogliamo studiare appunto entrambi questi meccanismi e capire quanto effettivamente possono incidere nei fenomeni di ostilità che si osservano oggi rispetto alla migrazione. Ecco appunto, la propaganda contro la migrazione quanto conta in questa ricerca? Perché conterà il fatto di alimentare le paure, le diffidenze? Sì, sì, conta molto, appunto noi vogliamo studiare bene quali possono essere questi canali attraverso cui passa questa propaganda e quali possono essere anche i meccanismi psicologici. Provo a fare un esempio, insomma, una delle narrazioni politiche più frequenti che sentiamo è quella che gli immigrati rubano il posto di lavoro. Noi sappiamo che questo non è in larga parte vero, insomma, l'evidenza scientifica ci dice che non sembra essere effettivamente così e quindi vogliamo capire perché però comunque in Europa gli europei sono così sensibili a questa narrazione, a questa propaganda e capire quindi quale possono essere anche le risposte che la socialdemocrazia europea, come dice anche il titolo, può dare rispetto a questi problemi.